ok ragazzi da san cassiano andiamo fino al passo al parola al falzarego sul di là questo lato non l'ho mai fatto quindi vediamo vediamo come va passo al parola un po' Grazie per la visione Grazie per la visione Grazie per la visione Eccoci qui al passo Sono lievemente finito Gli ultimi 2-3 km sono i peggiori Devastatica Vediamo se riesco a inquadrare il 4-3 km Nel frattempo alla prossima Ciao Grazie per la visione